cosa ci fa questo qui? è venuto a portarti il regalino? che vuoi? che cazzo ci fai qui? ti prego per favore accettalo Lorenzo vattene hai capito te ne devi andare ti ho portato un regalo non me ne vado non ho paura hai capito? tanti auguri buon compleanno tanti auguri tanti auguri non ho paura non ho paura non ho paura